Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca un brutto incidente stradale tra Carnia di Venzone e Moggio Udinese lungo la statale 13, si è verificato questa mattina poco dopo le 7. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Punto che viaggiava in direzione Udile, una Mazda 3 diretta invece a nord, si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti, soccorsi dall'equip medica di un'ambulanza e di un elicottero. Il condizionante della Fiat era rimasto incastrato ed è stato liberato da vigere il fuoco di Gemone, è stato trasportato in volo all'ospedale di Udile. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Furibonda, lite tra ex a Tarcento, lei finisce in ospedale e lui in carcere. Tutta la cronaca in pillola. Si reca a casa del suo ex per recuperare alcune cose dopo la fine della relazione viene presa a botte. Tragico epilogo di una storia d'amore a Tarcento dove un 43enne del posto, all'arrivo della sua ex, ha prima distrutto la casa spaccando mobili ed elettrodomestici. Poi si è scagliato sulla donna picchiandola con calci e pugni. Sul posto, chiamati dai vicini, sono arrivati i carabinieri della radiomobile che hanno fermato l'uomo e chiamato l'ambulanza per la donna, che se la caverà con dieci giorni di proniosi. L'uomo violento è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della convivente. Le guardie giurate del corpo vigili notturni hanno soccorso questa notte una giovane donna straniera nella zona di Borgo, stazione Udine, in via Foscolo. Erano da poco passate le 23 quando i vigilantes, impegnati in un servizio di monitoraggio e controllo, l'hanno notata sanguinante a terra. La ragazza, 22 anni, che vive a Udine, ha detto di essere stata aggredita da tre persone. Il gruppo di malviventi, che ha descritto come stranieri, le hanno rubato la borsa della spesa e la borsetta contenente 200 euro in contanti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, che ha portato la giovane all'ospedale, sul caso indagano i carabinieri di Udine. Vuole bere l'ultimo bicchiere della serata, nonostante sia già ubriache, al rifiuto del barista comincia a insultarlo e aggredire i presenti. A Paluzza è stato necessario l'intervento dei carabinieri per l'agitazione di una 44enne del posto, che all'arrivo dei militari stava ancora in vendo contro il barista, minacciandolo dall'altra parte del bancone. I carabinieri delle stazioni di Vila Santina e Comiglia s'hanno immobilizzato la donna, che cercava di corpirli a calci e pugni, è stata poi trasportata in carcere e dovrà rispondere di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Torna anche quest'anno la truffa più classica della stagione fredda, quella delle arance, a caderci. C'è stato qualche giorno fa un pensionato di Cividale che ha sporto denunce ai carabinieri. Come funzionerà a giro? Un uomo si avvicina alla sua vittima per strada a bordo di un auto o di un furgone. Dell'abitacolo mostra le cassette di arance, decantandole le qualità, propone l'acquisto e offre un buon prezzo. Ma è un inganno quando la vittima estrae il portafoglio per pagare le arance, il ma vivente glielo strappa e scappa con l'aiuto di un complice. Nel caso di Cividale la vittima è anche caduta a terra, ha riportato delle scorie azioni e le mani. Ha segnalato il mezzo su cui viaggiavano i due movimenti, un Fiat Doblo bianco. Ed ora ci spostiamo a Udine dove l'amministrazione comunale ha avviato questa mattina i lavori nel parcheggio di Via del Vascello dopo le segnalazioni di atti vandalici e microcriminalità. Ma scoppia la polemica politica. A Udine scoppia una nuova polemica. Da questa mattina infatti nel parcheggio di Via del Vascello sono iniziati i lavori voluti dall'amministrazione dopo gli ultimi episodi di vandalismo. Nel corso degli ultimi anni, spiega il vice sindaco Loris Michelini, si sono verificati atti vandalici e sono state segnalate microcriminalità, spaccio e prostituzione. Visto l'aumento esponenziale di questi fenomeni e considerata anche l'anzianità della struttura, la Giunta, in accordo con sistema Sosta e Mobilità, ha deciso di sospendere l'uso del primo piano, modificando anche il parcheggio eraso delle vie adiacenti per prevenire un utilizzo scorretto della sosta. I lavori, spiega ancora Michelini, puntano alla conversione del parcheggio con sistema barriera e saranno completati entro la fine di gennaio, in attesa del nuovo intervento progettuale di riqualificazione dell'intera area. La chiusura, precisa ancora il vice sindaco, comporterà una riduzione della capienza complessiva della struttura di circa 120 posti auto, ma l'amministrazione punta anche a valorizzare il parcheggio di Via L'Europa Unita, circa 130 posti, attualmente poco utilizzato. La decisione ha suscitato immediatamente le reazioni dell'opposizione. Fatemi capire, scrive l'ex assessore comunale Alessandro Venanzi su Facebook. In un parcheggio di proprietà del comune, a 50 metri dalla stazione, realizzano un furto per il quale ci vuole almeno mezz'ora di tempo. E allora, cosa si fa per dare una risposta a chi giustamente mostra preoccupazione? Si chiude l'accesso all'ultimo piano e si rendono tutti i parcheggi dell'area a pagamento. Ma non doveva cambiare tutto con i vigilantes e il ritorno dei vigili in capo al comune, conclude Venanzi. I militari del nucleo radomobile di Udine hanno denunciato per guida in stato d'Ebrezza un 23enne udinese che, mentre percorreva Piazzale Gabriele D'Annunzio alla guida della sua auto, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro l'aiuola sparti traffico, danneggiando la segnalettica stradale. La macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre al giovane è stata ritirata la patente. Incidente in via Baldasseria Bassa Udine, in direzione della periferia. Una donna di 38 anni ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, aortando una colonina telecom e la ringhiera di protezione della roggia. Sul posto sono i tre minuti di vigile fuoco, l'ambulanza del 118, una pattuglia della polizia locale. Riunione straordinaria della giunta regionale, stamane all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, fra gli argomenti e l'attenzione dell'esecutivo, anche gli scavi e i dragaggi nel porto di Monfalcone, per i quali, secondo discrezioni della vigilia, è giunto in quest'ora il via libera da Roma. Circa 3.000 persone erano presenti ieri a Corno di Rosazzo, alla chiusura delle lucciolate, organizzate a favore dell'Associazione Via di Natale. La finale 2018 della lucciolata nazionale l'abbiamo organizzata già quattro anni fa, perché fortunatamente tutti i comuni che partecipano alle lucciolate vogliono proprio questo evento, la finale dell'anno. È una cosa importante, perché io credo che tutte le persone che oggi sono qui a Corno, che sono tantissime, poi vedrete, hanno un unico obiettivo, quello di aiutare il prossimo. E anche l'amministrazione comunale di Corno è molto attenta per le persone che sono in difficoltà. Quindi per me, ripeto, è un orgoglio, una grande soddisfazione, ospitare qui, in questo piccolo comune, questa grande manifestazione. Con questa lucciolata a Corno di Rosazzo si chiude l'anno 2018 un anno di lucciolate, dove sono state fatte 200 in paesi del Triveneto, si è camminato, si è pedalato, si è navigato e ci sono state anche le lucciolate virtuali. Da 23 anni sono la direttrice della casa dell'ospice della Via di Natale, dove noi accogliamo in forma gratuita i familiari dei malati ricoverati che è al centro di riferimento oncologico e anche i malati che fanno terapia in dei ospiti per dei periodi anche molto lunghi. Vengono ospitati gratuitamente grazie alla generosità della gente della nostra terra. Poi abbiamo un ospite per malati terminali che sono friulani al 95%, dove li accompagniamo al termine della vita con amore, con serenità e soprattutto con dignità. Una notizia aggiunta poco fa redazione. E' terminata la fuga del quarto componente della banda rumena che nella notte fra lunedì 1 e martedì 2 ottobre avevano messo a segno un colpo nel centralissimo corso Vittorio Emanuele ai danni del negozio di abbigliamento Napagiri, gestito dai fratelli Fioretti. Quella stessa mattinata il personale della questura con attività lampova ha fermato tre cittadini rumeni recuperando l'intera refurtiva. Circa 60 mila euro di merce restituita ai due imprenditori. Il quarto elemento del gruppo era riuscito a scappare lanciandosi da una finestra al primo piano dell'ostello dove avevano trovato rifugio. Grazie alle indagini gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. Nel Bolognese grazie alla collaborazione dei carabinieri. Si tratta di un trentenne rumeno gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e da un decreto di espulsione. Spettacolo funestato dalle nuvole ed eclissi totale di luna rovinata. Le nubi infatti hanno compromesso la visibilità del fenomeno che in tutta la sua totalità si ripeterà il 20 dicembre 2029 anche se nel frattempo qualcuno si vedrà solo in parte al tramonto all'alba. Alle 4 e mezza di mattina di lunedì 21 la luna piena si è immersa lentamente nel cono d'ombra proiettato dalla terra illuminata dal sole venendo completamente eclissata dalle 5.41 alle 6.43. In Italia la visione è anche stata disturbata anche dall'orario indebolita dai bassi strati dell'atmosfera terrestre. Due nuove date per il Giova Beach Party la grande novità dell'estate 2019 a seguito della clamorosa richiesta oggi è arrivato l'annuncio Giovanotti ritornerà a Lignano Sabbia d'Oro quindi il Giova Beach Party debutterà come previsto il 6 luglio a Lignano Sabbia d'Oro e tornerà in un secondo appuntamento sempre sulla spiaggia Beritalia il 28 agosto un successo clamoroso che rappresenta l'entusiasmo per una proposta che porta l'esperienza collettiva di una giornata al mare di musica e divertimento al centro dell'estate 2019. Dall'ore 15 di mercoledì 23 gennaio sarà disponibile sul circuito Ticket One la prevendita dei due nuovi appuntamenti i bambini che non hanno ancora compiuto 8 anni potranno accedere al Giova Beach Party con un titolo d'ingresso gratuito. Ritorniamo a Udine è stato proiettato ieri sera al Cinema Visionario il film documentario dal titolo 1938 quando scoprimmo di non essere più italiani del registro Pietro Subero un documentario che ricostruisce le vicende che portano dalle leggi anti-ebraiche alla deportazione degli ebrei italiani. Ci sono cinque storie che raccontano appunto la conseguenza le conseguenze delle leggi razziali nel nostro paese storie molto diverse l'una dall'altra per fare degli esempi così in maniera molto sintetica c'è la storia di un ebreo fascista tanto fascista che decide di rimanere in Italia e trovazza di Torino anche dopo con l'occupazione nazista e purtroppo è una decisione poi fatale perché porterà una fine tragica per lui la moglie e i due figli poi c'è la storia di Pacifico di Consiglio detto Moretto che è un ragazzo un po' pazzo diciamo che decide di rimanere nel posto per lui più pericoloso cioè il ghetto di Roma con i nazisti e si salva grazie a un flirt a una storia sentimentale con una ragazza che è la nipote di un capobanda fascista che erano quelli che andavano proprio a caccia degli ebrei per soldi e insomma e fertando con questa ragazza riesce a carpire tutti i segreti degli spostamenti delle bande e di fatto si salva e poi ci sono altre varie storie tra cui insomma secondo me quella più importante è proprio quella riguardante i delatori perché è un tema tabù che fino ad adesso è stato toccato poco cioè molto le storie delle vittime poco di quelli che stavano dall'altra parte i persecutori ex fascisti che cosa vuole trasmettere attraverso questo film che è importantissimo mantenere questa memoria tenerla bella viva e che ci sono soprattutto tante zone grigie e riferivo proprio al tema dei dei delatori che non sono state trattate e ritorneremo a parlare del giorno della memoria proprio a voi la linea con un estratto dell'intervista una delle protagoniste di questo film documentario ovvero Lea Polgar che all'epoca aveva dieci anni ed è stata l'abbiamo intervistata sabato proprio nel corso dell'inaugurazione della mostra dedicata alle vittime dell'olocausto Aurelio e Melania Mistruzzi giusti tra le nazioni mostra che si trova a Palazzo Morpurgo a Udine poi a da voi la linea naturalmente faremo diversi collegamenti ci vediamo tra pochissimo l'informazione poi ritornerà questa sera alle 19 buongiorno grazie a tutti